Dopo la sosta per proseguire l'ottimo momento di campionato, il Pescara ospita questo venerdì alle 21 la Cremonese, forte delle tre vittorie nelle ultime quattro gare che hanno dato l'infa al campionato del Delfino. Una sosta nella quale Zauri ha lavorato per la maggior parte del tempo senza i sei nazionali, alcuni dei quali sono rientrati tardi, ma la condizione generale è buona. I ragazzi stanno bene, 10 giorni un po' tribolati per via delle nazionali, ne abbiamo avuti tanti per fortuna, però chiaramente sono rientrati due ieri, quindi siamo stati contenti di mandarli, ma chiaramente hanno un po' influito sulla preparazione gara, però i ragazzi stanno bene, quindi nessun alibi. Zauri confermerà il 4-3-2-1 nel quale le incognite principali sono a centrocampo, Busellato è a disposizione, ma dovrebbe essere ancora Crecco il titolare. Castanoss è l'indiziato principale alla sostituzione di Palmiero, out per il fastidio al tendine rotuleo, un'assenza pesante. L'abbiamo visto anche altre volte, è chiaro che Palmiero è un tipo di play, abbiamo due o tre giocatori che possono farlo con caratteristiche diverse, quindi abbiamo dei centrocampisti bravi, quindi è chiaro che mancano delle caratteristiche di Palmiero, ma tutti gli altri che abbiamo possono sopperire facendo anche altre cose. È chiaro che dovremmo essere bravi e veloci ad adeguarci a quello che ci chiederà la partita. Per il resto Zauri confermerà l'inteliatura della squadra che ha vinto ad Empoli, di conto c'è un avversario come la cremonese Grandifirme, che ha deluso nella prima parte di stagione, ma che tenta la risalita. È uno squadrone, insomma, di giocatori presi per vincere il campionato. Sulla carta hanno tutto, possono fare qualsiasi cosa, quindi vediamo. Mi aspetto entrambe le soluzioni, cioè che vengono a volte aggressivi, a volte aspetteranno, insomma, come diciamo spesso, la partita è fatta di più partite, quindi faranno tutte le cose. Ciofani-Ceravolo, la coppia d'attacco grigio-rossa non si è ancora espressa al massimo, ma sono due attaccanti tra i migliori della cadetteria. Sono giocatori bravi, io penso che i giocatori bravi non li puoi annullare, ma li puoi limitare. Quindi sicuramente passerà attraverso una fase difensiva molto accorta, non solo dei difensori. Quindi chiaramente dovremmo cercare di farli giocare in una terra non proprio loro, quindi Ciofani magari cercare di non portarlo molto in aria, perché è un giocatore che vive di queste palle rubate in aria, spizzicate eccetera. C'è un giocatore che si sa muovere un po' tutto il fronte d'attacco, quindi ci vorrà una fase difensiva molto attenta. Grazie.